Si era messo in testa che essendoci un commercio clandestino intorno alle antichità etrusche avremmo potuto trovarci magari in qualche difficoltà. Arthur ha avuto più di qualche difficoltà. Il professor Barnard stava parlando al telefono con la moglie quando fu ucciso. Così lei ha sentito ogni cosa. Dopo l'urlo della vittima qualcuno parlò con lei in... Beh, la signora crede che fossero parole etrusche. Oh, John. Qualcuno ha voluto creare un clima di mistero intorno a questo delitto. Un modo come un altro per sviarci dalla pista giusta. E come è stato ucciso ricorda certe vecchie tradizioni. Qui a Volterra la gente mormora che siccome l'americano era un profanatore di tombe è stato colpito dalla maledizione dei lucumoni. Che cosa ne...